e questa è la matura del grande che potete dare a stacco o le barripe di umane se no gli appozioniamo il petumone si stanno semplici altri di questi punti non è che non è un po' di uccione ma non è un po' di usci quindi si stanno semplici in the same sense da un'esercizio questo è interessante perché sono tanti di Taranso, la famosa francesca cooper, ma sono la maggioranza di tanti che si possono creare di spittare l'olio, invece di scegliere. Quindi, se vuoi fare un grande tanti, hai bisogno di scegliere l'olio. Questo è spittato, proprio come si è per i rinchi. Quindi le veine di wood sono molto più interessante. So, ora andiamo a vedere la villa. So, they decided to use a different philosophy, ageing the wine in a bottle. And this is how they age it, in these cages, laying down, wrapped in black plastic, so there's not a lot of light influence. Very interesting. This is a great change in the mentality of Italian winemaking, which originally, they wanted to keep wine in wood longer, not in bottled. Now they're keeping the wine longer in bottled. At the beginning they're dangerous, now it's ok. Yeah, I suppose that's all round now. So the stones are the old barrels, the old casks. So, yes, that's all. And this is in bottled. If you have a boat, you have to keep it up. I have to make a boat, and I think you need to step away to the garden, And you can't see the stairs, not in a bottle. You can't see the stairs. Arturo ha un po' di tempo, però per l'88 sono 6 figli, e l'81 qui è una della tomba di nostro lavoro, l'abbiamo preguta con Giacomo Tacchi e Raffaele, maritone di Maria, a Natale cinque anni fa abbiamo aperto quella che era rimasta vent'anni sottoterra, basta non vogliamo più San Marco e Tante. Allora, se mi faccio dire di venire al sacramento facciamo una piccola dimostrazione a cena con qualche professore di Davis a vedere. Dai, che c'è anche Martino così siamo contenti di si fare insieme. Allora, prima di aver guardato il mio cuore, e ci sono stati che c'erano, signore. Ci raccordi, ci raccordi, ci raccordi, ci raccordi. Grazie a tutti.